Siamo nella stessa acqua. È lo slogan che accompagnerà nelle prossime settimane la campagna di informazione rivolta ad aziende, scuole e semplici cittadini per ridurre i consumi di acqua potabile. La campagna è stata presentata nella sala ex chiesetta della provincia di Lodi dai rappresentanti dei varienti coinvolti dall'iniziativa che ha lo scopo di prevenire gli effetti di un altro anno all'insegna della siccità. Oltre alla provincia, rappresentata dal suo presidente Fabrizio Sant'Antonio, sono stati coinvolti la società acqua lodigiana, l'azienda che si occupa del ciclo integrato dell'acqua di una cinquantina di comuni del territorio e l'ufficio d'ambito, l'ente pubblico che gestisce il sistema idrico del lodigiano. Per ora, ha ribadito Giuseppe Negri, presidente di Salle, la provincia di Lodi non rischia di restare a secco. L'acqua potabile viene captata da tre distinte falde e anche quest'anno non dovrebbero esserci problemi di carenza idrica. Diverso il discorso per le necessità dell'agricoltura. Negri ha invitato le realtà preposte a valutare la possibilità di utilizzare per l'irrigazione dei campi l'acqua erogata dagli impianti di depurazione. Resta comunque la necessità di ridurre gli sprechi seguendo le semplici regolette di buonsenso che saranno comunicate coinvolgendo anche i sindaci dei comuni lodigiani nella campagna che si snoderà soprattutto sui canali social.